Oggi voglio proprio, 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 farti rilassare con tanti E tanti, camera, brushing, brushing, brushing Ciao, io sono Menga Questo è il mio canale ASMR E grazie per essere qui con me Grazie per essere qui Ultimamente questo suono mi piace tantissimo Ok Allora, prendo intanto il mio lipgloss Se senti in sottofondo dei ticchetti strani di qualcuno di sopra che gioca all'Xbox Ok 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 Con convenza, si sarà capito, ci sarà anche qualche mouse Ok 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 Ecco qua Il mega pennellone Il mega pennellone Il mega pennellone Cammoni Brushing 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 ok a presto a presto a presto a presto a presto vedo che ti stai rilassando sono molto contenta perché sai tutte quelle cose che ti porti dentro fa bene per un po' lasciarle fuori facciamo che ogni pennellata se ne vanno porta un po' qui 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 più vicino il tuo bel vicino il tuo bel vicino no come stai? come ti senti? io mi sento abbastanza bene senti come va via un po' di robaccia? noi la robaccia non la vogliamo noi la robaccia non la vogliamo dico bene? ok ora dal tuo visino voglio togliere togliere quelle rughe da espressione triste vedi le rughe di espressione felice sono queste e queste e quelle di espressione triste invece mi dirai quindi lo sai quali sono? ma come stai bene adesso bello ma si un po' di tongue clicking un altro po' di tongue clicking cosa dici? non puoi smettere di guardare questo video è quasi finito vabbè ma ne trovi tanti altri eh? ah se vuoi tornare qui con video simpatici come questo io che sono menca qua sono sempre pronta ad accoglierti hai capito? nasino ti mando un bacino grande 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 fino a lì lontano lontano lontanissimo sei vicino? allora vicinissimo sei vicina? allora vicinissimo lo stesso un bacino un bacino a presto 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 Grazie.